di alessandro manzoni i promessi sposi voce di lorenzo pieri capitolo quattordicesimo parte prima la folla rimasta indietro cominciò a sbandarsi a diramarsi a destra e a sinistra per questa e quella strada chi andava a casa ad accudire anche alle sue faccende chi s'allontanava per respirare un po a largo dopo tante ore di stretta chi in cerca d'amici per ciarlare dei gran fatti della giornata lo stesso sgombero s'andava facendo dall'altro sbocco della strada nella quale la gente restò abbastanza rada perché quel drappello di spagnoli potesse senza trovar resistenza avanzarsi e postarsi alla casa del vicario accosto a quella stava ancora condensato il fondaccio per dir così del tumulto un branco di birboni che malcontenti d'una fine così fredda e così imperfetta d'un così grande apparato parte brontolavano parte bestemmiavano parte teneva in consiglio per vedere se qualche cosa si potesse ancora intraprendere e come per provare andavano urtacchiando e pigiando quella povera porta che era stata di nuovo appuntellata alla meglio all'arrivar del drappello tutti coloro chi diritto diritto chi baloccandosi e come astento se ne andarono dalla parte opposta lasciando il campo libero a soldati che lo presero e vi si postarono a guardia della casa e della strada ma tutte le strade del contorno erano seminate di crocchi dove c'erano due o tre persone ferme se ne fermavano tre quattro venti altre qui qualche d'uno si staccava là tutto un crocchio si muoveva insieme era come quella nuvolaglia che talvolta rimane sparsa e gira per l'azzurro del cielo dopo una burrasca e fa dire a chi guarda in su questo tempo non è rimesso bene pensate poi che babilonia di discorsi chi raccontava con enfasi i casi particolari che aveva visti chi raccontava ciò che lui stesso aveva fatto chi si rallegrava che la cosa fosse finita bene e lo dava a ferrer e pronosticava guai seri per il vicario chi sghignazzando diceva non abbiate paura che non l'ammazzeranno il lupo non mangia la carne del lupo chi più stizzosamente mormorava che non saran fatte le cose a dovere che era un inganno e che era stata una pazzia il far tanto chiasso per lasciarsi poi canzonare in quella maniera intanto il sole era andato sotto le cose diventavano tutte ed un colore e molti stanchi della giornata e annoiati di ciarlare al buio tornavano verso casa il nostro giovine dopo aver aiutato il passaggio della carrozza finché c'era stato bisogno d'aiuto ed esser passato anche lui dietro a quella tra le file dei soldati come in trionfo si rallegrò quando la vide correr liberamente fuori di pericolo fece un po di strada con la folla e nusci alla prima cantonata per respirare anche lui un po liberamente fatto che ebbe pochi passi a largo in mezzo all'agitazione di tanti sentimenti di tante immagini recenti e confuse sentì un gran bisogno di mangiare e di riposarsi e cominciò a guardare in su da una parte dall'altra cercando un insegna d'osteria giacché per andare al convento dei cappuccini era troppo tardi camminando così con la testa per aria si trovò ridosso a un crocchio e fermatosi sentì che vi discorrevano di congetture di disegni per il giorno dopo stato un momento a sentire non poté tenersi di non dire anche lui la sua parendogli che potesse essere senza presunzione proporre qualche cosa chi aveva fatto tanto e persuaso per tutto ciò che aveva visto in quel giorno che ormai per mandare a effetto una cosa bastasse farla entrare in grazia a quelli che giravano per le strade signori miei gridò in tono desordio devo dire anch'io il mio debo il parere il mio debo il parere è questo che non è solamente nell'affare del pane che si fanno delle bricconerie e giacché oggi si è visto chiaro che a farsi sentire sottiene quel che è giusto bisogna andare avanti così finché non si sia messo rimedio a tutte quelle altre scelleratezze e che il mondo vada un po più da cristiani non è vero signori miei che c'è una mano di tiranni che fanno proprio al rovescio dei dieci comandamenti e vanno a cercare la gente quieta che non pensa a loro per farle ogni male e poi hanno sempre ragione anzi quando n'hanno fatta una più grossa del solito camminano con la testa più alta che par che gli sabbia a rifare il resto già anche in milano ce ne deve essere la sua parte purtroppo disse una voce lo dicevo io riprese renzo già le storie si raccontano anche da noi e poi la cosa parla da sé mettiamo per esempio che qualche d'uno di costoro che voglio dir io stia un po in campagna un po in milano se è un diavolo la non vorrà essere un angelo qui mi pare dunque mi dicano un poco signori miei se hanno mai visto uno di questi col muso all'inferiata e quel che è peggio e questo lo posso dir io di sicuro è che le gride ci sono stampate per gastigarli e non già gride senza costrutto fatte benissimo che noi non potremmo trovare niente di meglio ci sono nominate le bricconerie chiare proprio come succedono e a ciascheduna il suo buon gastigo e dice sia chi sia vili e plebei e che so io ora andate a dire ai dottori scrivi e farisei che vi facciano far giustizia secondo che canta la grida vi danno retta come il papa e furfanti cose da far girare il cervello a qualunque galantuomo si vede dunque chiaramente che il re e quelli che comandano vorrebbero che i birboni fossero gastigati ma non se ne fa nulla perché c'è una lega dunque bisogna romperla bisogna andare domattina da ferrer che quello è un galantuomo un signore alla mano e oggi si è potuto vedere come era contento di trovarsi con la povera gente e come cercava di sentir le ragioni che gli venivano dette e rispondeva con buona grazia bisogna andare da ferrer e dirgli come stanno le cose e io per la parte mia gliene posso raccontare delle belle che ho visto io con miei occhi una grida con tanto d'arme in cima ed era stata fatta da tre di quelli che possono che d'ognuno c'era sotto il suo nome belle stampato e uno di questi nomi era ferrer visto da me con miei occhi ora questa grida diceva proprio le cose giuste per me e un dottore al quale io gli dissi che dunque mi facesse rendere giustizia come era l'intenzione di que tre signori tra i quali c'era anche ferrer questo signor dottore che mi aveva fatto vedere la grida a lui il medesimo che è il più bello ah pareva che gli dicessi delle pazzie son sicuro che quando quel caro vecchione sentirà queste belle cose che lui non le può sapere tutte specialmente quelle di fuori non vorrà più che il mondo vada così e ci metterà un buon rimedio e poi anche loro se fanno le gride devono aver piacere che subidisca che anche un disprezzo un pitaffio con loro nome contarlo per nulla e se i prepotenti non vogliono abbassare la testa e fanno il pazzo siamo qui noi per aiutarlo come se fatto oggi non dico che deve andare lui in giro in carrozza ad acchiappare tutti i birboni prepotenti e tiranni sì ci vorrebbe l'arca di noè bisogna che lui comandi a chi tocca e non solamente in milano ma per tutto che facciano le cose conforme di con le gride e formare un buon processo addosso a tutti quelli che hanno commesso di quelle bricconerie e dove dice prigione prigione dove dice galera galera e dire ai podestà che facciano davvero se no mandarli a spasso e metterne del meglio e poi come dico ci saremo anche noi a dare una mano e ordinare a dottori che stiano a sentire i poveri e parlino in difesa della ragione dico bene signori miei renzo aveva parlato tanto di cuore che fin dall'esordio una gran parte dei radunati sospeso ogni altro discorso si erano rivoltati a lui e a un certo punto tutti erano divenuti suoi uditori un grido confuso d'applausi di bravo sicuro ha ragione è vero purtroppo fu come la risposta dell'udienza non mancaron però i critici e sì diceva uno da retta a montanari sono tutti avvocati e se n'andava ora mormorava un altro ogni scalza cane vorrà dir la sua e a furia di metter carne a fuoco non savrà il pane a buon mercato che è quello per cui ci si ammossi renzo però non sentì che i complimenti chi gli prendeva una mano chi gli prendeva l'altra arrivederci a domani dove sulla piazza del duomo va bene va bene e qualcosa si farà e qualcosa si farà chi è di questi bravi signori che voglia insegnarmi un'osteria per mangiare un boccone e dormire da povero figliuolo disse renzo son qui io a servirvi quel bravo giovine disse uno che aveva ascoltata attentamente la predica e non aveva detto ancora nulla conosco appunto un'osteria che farà al caso vostro e vi raccomanderò al padrone che è mio amico e galantuomo qui vicino domandò renzo poco distante rispose colui la radunata si sciolse e renzo dopo molte strette di mani sconosciute s'avviò con lo sconosciuto ringraziandolo della sua cortesia di che cosa diceva colui una mano lava l'altra e tutte due lavano il viso non siamo obbligati a far servizio al prossimo e camminando faceva renzo in aria di discorso ora una ora un'altra domanda non per sapere i fatti vostri ma voi mi parete molto stracco da che paese venite vengo rispose renzo fino fino dal lecco fin dal lecco di lecco siete di lecco cioè del territorio povero giovine per quanto ho potuto intendere da vostri discorsi ve ne hanno fatte delle grosse è il mio caro galantuomo ho dovuto parlare con un po di politica per non dire in pubblico i fatti miei ma basta qualche giorno si saprà e allora ma qui vedo un insegna d'osteria e in fede mia non ho voglia ad andare più lontano no no venite dove ho detto io che c'è poco disse la guida qui non mi stareste bene sì rispose il giovine non sono un signorino avvezzo a star nel cotone qualcosa alla buona da mettere in castello e un saccone mi basta quel che mi preme è di trovare presto l'uno e l'altro alla provvidenza ed entrò in un usciaccio sopra il quale pendeva l'insegna della luna piena bene vi condurrò qui giacché vi piace così disse e lo sconosciuto e gli andò dietro non occorre che vi incomodiate di più rispose renzo però soggiunse se venite a bere un bicchiere con me mi fate piacere accetterò le vostre grazie rispose colui e andò come più pratico del luogo innanzi a renzo per un cortiletto s'accostò all'uscio che metteva in cucina alzò il saliscendi aprì e ventrò col suo compagno